benissimo guarda io andiamo fino a poco eh devo tappare io tu onde potresti da te da mangiare la papera eh? eh lo so, la si becca ma da tua parte dai su l'aquina tieni l'aquina non ce l'hai bene io avrei anche da lavorare ti rendo posto per ora ora mangia dai come fa a perdere tempo? non ti faccio imboccare come figlioli dai non è di suo gradimento? l'ha nata? non fa un staccino dai ohioi che se l'ha detto, lo dicano, è pace, è che ti ha già detto, figlio mio. Forse non hanno capito che io sono a lavorare, a me fanno ridere. Ma sai che tu fai? Tu fai un po' più spesso e vorrei dire... Sto facendo lo sgusco e dargli all'innesso di manico. Cosa vuoi? Ti ho dato da mangiare lì? Allungatene, dai. Anzi no, no, fermati, fermati. Non ci passa davanti alla telecamera, ma lei non dì nulla. Perché mi hanno fatto il rotto coglioni con i tiri, ma con chi tu chiacchiere e tu chiacchiere con nessuno. Andrà rimanendo in dubbio. Sta dietro. E lo so che è pronto. Lascia di controllare. Io sento dai miei papi che chiede nella merda. Perché io vengo. E ciò da fare un monte. Non posso diventare un grullo. Lo posso. E' un po' più. Ma che pezzi. Io ho fatto. Questi, questi, questi quelli che vogliono sapere le attristiche tecniche della modifica, una modifica teta, addirittura che qualcuno dice ma la avete? L'avete misurato con le strumentazioni adatte in miglioramento? E' come. E' come sempre. Buona scena. Ok, lavorate, forza. Va bene. Qui coglioni. A me mi sa che ti abbia ragione l'altro. Va a finire il rosso. E' possibile da rompere i coglioni così. Agostino. Come ti dicevo, cioè, se ci fosse il mio cugino mi direbbe. Perché sono discorsi da ingegneri. Si. No, perché lui è quello che fa l'inventore, no? Lui per lavoro in vita sua. Lui ha fatto la terza, la quarta, la pinta elementare a pedale nel culo, va bene? Eh? E' abbrevettato, non si sa quante cose, ma abbrevetti. E' bene perché una volta era assoluta una ditta. Con la diomausica, eh? Quindi non... O con le ferrovie, insomma, roba di questo tipo. E si trovò a dover assumere degli ingegneri. Lui che aveva fatto la pinta elementare. Mi ha dato una definizione di ingegneri che... Io veramente mi ha fatto innamorare con questa definizione di ingegneri. Gli ingegneri sono quelli che ti dimostrano, cattoli alla mano, che quello che è su da 5.000 anni non può stare su. Ecco. Tutto lì. E' lo scorso. E' quella di questo tipo di ingegneri ormai. Si va a incazzare tutti... A incazzare anche gli ingegneri. Io mi sono davvero con gli ingegneri. Perché l'ho visto premettare delle cose che gli ingegneri sono suonano. Come si fa a misurare il miglioramento qualitativo dallo strumento? Cipolle... E poi lo suona e mille che l'ascoltano per sentire la differenza, perché è una cosa proprio da ingegneri, ma è più bellissimo, che fa in giù, che costa voi? E' un'altra tipica, ma farà un sanguiccio. La facilità di beccare qui, come è di beccare la guarnizione della forza? Cosa vuoi? Cosa vuoi della mia vita? Cosa vuoi? Bene, dai, basta, dai, stacca, stacca, bene, dai. Allora io ho il liacchio prepotente.